C'è oggi abbiamo molti più strumenti, per chi fa informazione, molti più strumenti di prima. La differenza rispetto al passato è che c'è sempre stata una controinformazione, una propaganda, le fake news non sono mica nate con internet, quello che faceva la differenza una volta era l'autorevolezza della firma, cioè ci si fidava delle persone che uno seguiva attraverso i giornali, ognuno seguiva un proprio giornale e quella era una garanzia, la testata e il giornalista erano una garanzia e poi c'era anche il discorso di qualità, chi faceva fake news si capiva allontano un milio che non era molto del mestiere, oggi invece si riesce a fare un prodotto simile perché si è molto abbassata la qualità del giornalismo medio e delle volte è incredibile, sentendo colleghi che si capisce proprio palesemente che non sanno nemmeno di che paese stanno parlando, che sbagliano, io sulla crisi di Venezuela ne ho sentito più volte Caracas, cioè non sanno nemmeno dove mettere un accento perché c'è un abbassamento della formazione, c'è chi prima, ad esempio nel mio campo, nella politica estera, che arriva a occuparsi di politica estera aveva un background di formazione molto importante, non soltanto il fatto di essere andato all'università ma di esperienze, volontariato, di aver fatto ricerche eccetera, oggi la professione ci si avvia molto più velocemente perché c'è un'infinità di siti, blog e riviste online che cucciano notizie da lanza un po' prese un po' di qua di là e quindi credo che se il giornalismo avrà un futuro dovrà passare per forza dalla ricostruzione della noterevolezza della testata del giornalista.